Buongiorno, sono Alessandro Tosti e sono nell'ufficio Remax Centro Immobiliare di Varese. Sono passati sette anni quasi da quando sono entrato per la prima volta qui per caso. Conoscevo una persona che lavora qui, mi ha presentato Emanuele Cadei, che è il broker dell'agenzia, abbiamo chiacchierato e mi ha convinto a cominciare questa nuova avventura. Per me è stato un mentor, nel senso che mi ha insegnato tanto perché io venivo proprio da un altro mondo, quindi venivo dalla sanità, quindi non sapevo niente di casa, non sapevo neanche cosa fosse una misura catastale. Ora sono passati sette anni e mi ritrovo qui con tante belle soddisfazioni, anche perché non faccio soltanto quello, ma grazie a Emanuele che mi ha insegnato tante cose, dai corsi che sto facendo, a tutti gli incontri con gli altri consulenti, convention a cui ho partecipato, ho sempre aumentato il mio bagaglio e la mia esperienza. Ora mi trovo qua, oltre che fare il mio lavoro di compravendita immobiliare, insegno anche a quelli nuovi, è una cosa che mi dà tante soddisfazioni, anche perché quando vedi che anche quei ragazzi nuovi che entrano cominciano a produrre, cominciano a guadagnare, è una soddisfazione personale. Intanto io vi faccio vedere anche l'ufficio dove lavoro, che è molto grande, quindi è composto da due sale dove facciamo i contratti, dove facciamo praticamente le proposte, tutto ciò che insomma concerne la compravendita immobiliare, sia commerciale che residenziale. E qui possiamo vedere praticamente dove sono le segretarie, che sono a disposizione dei clienti tutto il giorno, dal lunedì al sabato, il sabato mezza giornata, che possono dare sempre informazioni alle persone che entrano, quindi non troverete mai l'ufficio chiuso. Sono contento di questo lavoro, perché mi ha portato veramente a conoscere tanta gente, anche se non sono qui di Varese, ma la mia città natale è Roma, sono qui per lavoro, non per fare l'agente immobiliare, ma lavoravo come dicevo prima nella sanità. Ora sto facendo questo con tante soddisfazioni. Vi saluto e spero che se c'è qualcuno che vuole entrare nel mondo dell'immobiliare ci chiami e magari mi chieda informazioni. Gli posso raccontare la mia esperienza in modo più esplicativo. Vi saluto, ciao!